Buongiorno, in questo video vedremo un trucco per ricordare la legge di Ohm. Scriviamo in un triangolo la tensione V sopra, poi il segno di frazione, poi la resistenza e la corrente. Per trovare la tensione copriamo la tensione V e il risultato è R per I. Per trovare la resistenza copriamo la resistenza e il risultato è V diviso I, tensione diviso corrente. Per trovare la corrente il risultato è V diviso R. È un semplice trucco per imparare a ricordare la legge di Ohm. Grazie, al prossimo video. Grazie. Grazie.